Chiaravalle Arte 2023 continua a stupire e a registrare un boom di visitatori, il successo dell'evento è merito dei curatori, Nicola De Luca, Maurizio Vitiello, Vincenzo Lepera, Lara Caccia, della qualità delle opere in mostra, ma anche di una formula che funziona. Tanti volontari attivi protagonisti nell'organizzare, accogliere, assistere e coinvolgere il pubblico. In prima linea la consulta comunale della cultura di Chiaravalle Centrale. Sì, assolutamente sì. Forse di questo dobbiamo ringraziare il fatto che abbiamo cambiato da location, il fatto di essere qui a liceo scientifico, che è una location che si trova al centro del paese, forse dà la possibilità alla gente di poter fruire maggiormente della mostra. Magari la gente passando si incuriosisce ed entra e poi magari ci torna, perché ci sono persone che sono tornate anche più volte. Abbiamo dei ragazzi del servizio civile che si sono resi disponibili per aiutarci, per darci una mano ad accompagnare i visitatori nelle stanze della mostra. La professoressa Lara Caccia si è trovata qui con noi ieri e ha fatto una sorta di formazione per questi ragazzi che già si sono cimentati da subito. Anche adesso, in questo momento, sono nelle sale e stanno accompagnando i nostri visitatori. Chiaravalle Arte 2023 conferma così il suo ruolo di evento culturale di rilievo, capace di attrarre un numeroso pubblico e di valorizzare il talento artistico contemporaneo. L'evento continua fino al 13 agosto, offrendo ancora incontri e momenti di scoperta delle opere in concorso. L'evento continua fino al 13 agosto, offrendo ancora incontri e momenti di scoperta delle opere in concorso. L'evento continua fino al 13 agosto, offrendo ancora incontri e momenti di scoperta delle opere in concorso.